è possibile giocare al tcg di one piece online il processo che vi vedrà impiegare i primi caratter virtuali risulterà difficile a farsi e quali saranno i vari passaggi da seguire che vi vedranno indossare i panni dei vostri leader preferiti anche attraverso un monitor nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale one piece tcg online è possibile assolutamente sì è da tempo oramai che utilizzo la versione digitale del tcg targato bandai per testare i diversi leader che hanno suscitato la mia attenzione in questi primi due set del gioco ed è proprio negli ultimi giorni che diversi aspiranti re dei pirati mi hanno chiesto informazioni sul come fosse possibile scaricare il programma da utilizzare sui vari portatili o fissi e sarà proprio in questo video che andremo ad affrontare ogni passaggio necessario che vi porterà dallo scaricare alcuni file a muovere i primi passi sulla plancia di gioco virtuale prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone per noi invece è molto importante così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati grazie infinite in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme come giocare online al tcg di one piece andiamo a dargli un'occhiata la prima cosa da fare sarà recarsi sul drive di google link in descrizione dove vi basterà selezionare una delle voci disponibili a seconda del sistema operativo o modello di computer a vostra disposizione in questo caso nel mio caso ho scelto la versione per windows una volta puntato con il cursore del mouse sul file vi basterà fare click con il pulsante destro e optare dal menu a tendina per la voce scarica attenzione questo file non potrà essere scansionato dall'antivirus ma non ci sarà alcun problema di sorta quindi proseguite senza preoccuparvi con il processo di download una volta che il procedimento avrà avuto luogo dovrete recarvi in download nel sistema del vostro pc e da lì selezionando il file compresso potrete estrarre la cartella denominata build windows direttamente sul desktop o dove meglio crederete una volta fatto ciò assicuratevi che i vari file riguardanti le carte siano presenti altrimenti non avrete elementi per poter giocare sia arconte e come si fa il procedimento sarà il seguente aprendo la cartella appena estratta sul desktop dovrete fare click su optcg sim data per poi selezionare la voce streaming asset ed infine cards qui ci saranno tutti i tre set principali disponibili le carte promo e ogni singolo starter a partire dal primo fino al nono pronti per essere utilizzati come meglio crederete una volta fatto ciò non vi resterà altro da fare che avviare il programma cliccando su optcg sim aperta l'interfaccia vi ritroverete davanti tre voci principali sulla sinistra multiplayer solo versus self e deck editor mentre sulla parte destra in alto ci saranno due icone che potrete utilizzare per abilitare o meno i suoni dell'applicazione la parte dedicata al vostro nome in gioco e delle caselle nominali che potrete spuntare a vostro piacimento vi consiglio di selezionare le stesse che ho personalmente flaggato così da rendervi le partite che a breve vi vedranno protagonisti più immersive e semplici da gestire ok arconte tutto chiaro ed ora ora non ci resterà altro da fare che costruire il vostro deck ma come fare vi basterà recarvi sulla voce deck editor per aprire la finestra dedicata allo scopo per prima cosa vi basterà selezionare il colore che desidererete utilizzare spuntando la casella di riferimento per poi scegliere le carte che vorrete includere nel vostro mazzo per farlo vi basterà posizionare il cursore su una qualunque carta presente nella parte bassa dello schermo e fare clic con il tasto sinistro del mouse per inserirla nella lista potrete anche inserire i playset completi senza fare clic per quattro volte sulla stessa immagine premendo questa volta unicamente il tasto destro del mouse per togliere invece degli elementi dal deck vi basterà selezionare le carte presenti in lista e ripetere il procedimento appena menzionato clic sinistro per eliminare singolarmente clic destro per eliminare in gruppo potrete anche copiare ed incollare per velocizzare l'intero procedimento le liste presenti sul sito dev sezione builder come sempre link in descrizione per farlo dovrete seguire questi semplici passaggi selezionare la voce export cliccare su text nella finestra che si aprirà e cliccare nuovamente sulla lista in chiaro quindi potrete tornare nel deck editor di op tcg sim e optare per la voce import deck from clipboard per incollare l'intera lista direttamente sulla piattaforma una volta che avrete completato la vostra profile dovrete seguire questi ultimi due passaggi dare un nome al deck nello spazio denominato deck name posto in alto a sinistra della schermata di gioco ed infine salvarlo in questo modo avrete la possibilità di utilizzare il vostro mazzo nelle partite che svolgerete nell'ethere a proposito di match arconte come sarà possibile sfidare altri aspiranti re dei pirati tornando alla schermata iniziale selezionando la voce back to lobby dal deck editor non dovrete fare altro che scegliere l'opzione multiplayer una volta nella lobby pubblica la prima cosa da fare sarà selezionare il deck che vorrete giocare nel menu a tendina posto in alto a sinistra e di seguito deselezionare o lasciare così come sono i vari set che vorrete affrontare durante un match personalmente prima di affrontare un avversario vado di solito a togliere le spunte sugli starter 7 8 e 9 e al set op 03 per incontrare avversari che possano simulare un incontro quanto più strettamente correlato al meta in corso in italia ed europa ma spetterà a voi la scelta finale infine vi basterà cliccare sul pulsante quick join unrestricted game per iniziare a muovere i primi passi nello sconfinato universo del tcg di one piece in versione digitale e così anche voi potrete testare quanti mazzi vorrete affinando le tecniche in vista di un local o un torneo di entità regionale o nazionale vi renderete ben presto conto di avere a che fare con una piattaforma molto intuitiva ad esempio vi basterà selezionare kinemon per innescarne l'effetto quando avrete un character o meno in gioco fare clic su un don e di seguito su un personaggio o leader per assegnarglielo scegliere se bloccare con un blocker entrare direttamente in fase di counter o prendere il danno diretto alle vostre vite e così via insomma esplorate a fondo le varie dinamiche che questo strumento preziosissimo avrà da offrirvi di certo ptcg sim rappresenterà un alleato validissimo in vista come già accennato di un torneo o semplicemente per testare le meccaniche di un leader che vi interesserà provare personalmente lo consiglio moltissimo a chi è nuovo del gioco soprattutto se non si ha intenzione di spendere cifre eccessive per montare dei deck che poi si rivelerebbero difficili da comprendere e far funzionare concludendo con questa piattaforma avrete sempre a disposizione tutto quello che vi servirà per sperimentare a fondo il tcg di one piece con le sue bizzarre e folli dinamiche e voi quale personaggio attualmente presente in gioco utilizzerete per diventare il terrore dei sette mari come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video